Intenso, interpretato con il giusto spirito dalle due contendenti, incerto sino al definitivo suono della sirena. Ecco cosa è stato il derby tra Corato e Lions Biceglie, giocato sul parquet del Palacolombo di Ruvo. Hanno vinto di un punto 81 a 80 ai Bicegliesi nell'appuntamento che ha fatto calare il sipario sul 2018 agonistico delle due squadre. Hanno ritrovato la via del successo nel campionato nazionale di Serie B gli uomini allenati da Gigi Marinelli dopo tre sconfitte consecutive e una sola vittoria collezionata nelle precedenti cinque esibizioni di stagione regolare. Vittoria cercata, vittoria fortemente voluta e alla fine ottenuta dalla squadra che da calendario giocava in trasferta. Lions avanti ad ogni interruzione, più 4 dopo 10 minuti, più 2 all'intervallo lungo, più 10 all'alba dell'ultimo parziale, poi il ritorno dei padroni di casa e il finale che ha premiato i Bicegliesi, capaci così di anulare il tentativo di aggancio in classifica di Coratini e di inanellare l'ottava affermazione in 13 incontri disputati in campionato. Protagonisti tra gli ospiti Rossi con 18 punti, Smorto con 16, Tommasello con 14 e Kuschev con 10 punti. Non sono bastate la squadra di Marco Verile invece ai 17 di stella e ai 14 della coppia Marini-Smorra. Corato dunque fermo a quota 12 in classifica. Il 2019 delle due squadre intanto si aprirà in maniera differente domenica prossima con palla 2 prevista alle ore 18, quando in programma l'ultimo turno del giro d'andata i Lions, quarti in graduatoria, proveranno a ritrovare la via del successo anche nella versione casalinga, anche se l'impresa si presenta tutt'altro che semplice contro la vicecapolista Amatori Pescara. La missione riscatto dei Coratini, che nel prossimo fine settimana osserveranno il turno di riposo, farà tappa invece soltanto il 13 gennaio a Chieti nella prima di ritorno. Grazie a tutti.